Meglio, 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 posso ci so, buongiorno, buongiorno sto cazzo, oh, per partire bene lunedì, vero, per essere chiari subito all'inizio della settimana, eh, eh, oh no, secondo me questa è la settimana del preseppino, questa è la settimana del preseppino, questa è la settimana del preseppino, no, sì, è nuova, sì, la settimana del preseppino, la settimana del preseppino, basta che te levi di coglione, tu, presepio, no, no, ha detto che il presepe sarà arrivato di coglione, ma che stai fa, 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 una sega, e dopo la sega che fai, mannaggia che risposta, ma che stai fa, 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 ma perché stai guardando quello che stai, eh, 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 fa, ma sempre queste parole, e uno ne puoi chiamare perché, fa, fa, ma il canale da piazza, successo, eh, che è successo? Si è stretto questo. Com'è possibile? Le ho messo lì sopra la stufa, con calore, sapete? E adesso? Eh, adesso, il muto via, e non se ne parla. E poi? Eh, e poi? Guarda, guarda, guarda se è buona, fa qualcosa. S'allagherà, no? Fermate, è meglio levare quello! Sì?